L'Abruzzo, ancora una volta, dimostra di non essere solo una terra di orsi, lupi ed aquile. Infatti, nell'annuale conteggio, svoltosi al gennaio nelle aree umile della regione, in totale sono stati censiti contemporaneamente 12.305 uccelli acquatici. Tra anatre, gabbiani e altri gruppi tassomici appartenenti a 37 specie diverse. Quest'anno hanno partecipato sul campo 50 ornitologi ed appassionati che, grazie al coordinamento di Carlo Artese della stazione ornitologica abruzzese, hanno monitorato la presenza faunistica in 31 località della regione Abruzzo, dal litorale fino al lago di Campotosto. Con queste immagini, rare ed uniche, Thermoly Wild vi augura una buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.